Forse sarà il caso di tornare a casa Però cavolo tutta quest'acqua veramente Mi fa pensare al fatto che dovrei catturare un Pokémon tipo acqua In effetti è molto utile e il mio starter è fuoco Quindi sì, penso proprio che ci starebbe benissimo nella mia squadra Il punto è, dove lo trovo? Mi serve qualcosa di carino e magari forte Io purtroppo i Pokémon d'acqua non li conosco benissimo Mi ricordo che in passato ho avuto Mantin Ma diciamo che lo tenevo soltanto perché era Shiny C'ho avuto Geridos, che tra l'altro ho avuto anche quello di Shiny Purtroppo mi manca, era veramente bello Il mio bellissimo Geridos rosso Ah, che ricordi Spero solo di poterli ritrovare un giorno quei Pokémon Mi sa che sono rimasti nel mio computer nell'altra città Sì, dovrei trovare il modo di ricoperarli prima o poi Mentre ecco questi qui, che se non sbaglio sono i Goldin, si chiamano Non lo so, non mi sono mai piaciuti più di tanto Ci sono anche i Girini Ok, tipo quello è strano Cos'è? Non so cosa sia Ah sì, ok, lo riconosco, lo riconosco Non voglio qualcosa di normale Voglio... perché mi hai sfilato? Io vabbè, livello 35 però eh Ok, no, forse devo cambiare Mettiamo... non so pronunciarlo Comunque nei commenti mi avete detto tutti che intro forza e di tipo con leottero Perché avete fatto un po' di conti Io tipo non lo so, non ne ho la minima idea Però mi fido, mi fido, l'importante è questo E facciamo anche dei livelli Ah, hanno livellato tutti praticamente Ok, perfetto Continuando così Tra non molto potranno anche evolversi Tra l'altro ho sconfitto soltanto il livello 35 Non era chissà che cosa Quindi, cavolo, mi ha dato tantissima esperienza Ma non è il mio scopo Quindi continuo la mia ricerca Non ci credo Eccolo qui C'è Blastoise Bellissimo La mega evoluzione Allora, in teoria il livello dovrebbe essere abbastanza alto Il suo perché in questo momento c'è appunto un Pokémon di livello 46 Però che lui è 66 Se non lo uccido con Brexen Penso si chiami così No, 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 no Non è possibile, cioè Ma aspettate, ma ho sbagliato Pokémon Non l'ho attaccato con quello sbagliato Ok, questo, questo è quello giusto Cioè, con cosa l'aveva attaccato non lo so Io vabbè, oddio Sì Cioè, sul serio Lui mi ha praticamente shottato E io l'ho levato questo Ok, ha fatto bene prima Fuggire Fugo di nuovo E ciao proprio È stato bello incontrarti Cioè, nemmeno tanto Però va bene No, cavolo, sei figo, raga Bellissimo E ce n'è un altro laggiù Ecco, questo però A differenza dell'altro Non è leggendario Quindi, in teoria È meno potente Il fatto è che ora C'ho tipo tutti Tutti quelli distrutti Quindi non ce la faccio mica A sconfiggerlo Ha perso troppa vita il mio Eh no, appunto Ha attaccato anche per primo Niente Ehm Vabbè Sono costretto a mettere un Pokémon Ma tanto mi shotta Sì, vabbè Faccio fuga Ok, mi ha fatto fuggire Sì Ho anche tutti i Pokémon distrutti Quindi, perfetto Non posso più nemmeno provare A catturare un Pokémon Sta anche calando la notte Quindi a questo punto Me ne torno al villaggio E qua ho trovato roccia fredda Ok Me ne torno al villaggio Curi Pokémon Dormo E poi continuo la mia ricerca Ok, perfetto Ora possiamo continuare A cercare un Pokémon Ehm Veramente io non so Magari invece che rimanere qui Potrei andare Verso l'oceano Perché nei fiumi in effetti Sì, si trovano I Pokémon d'acqua Però non tutti i Pokémon d'acqua Perché molti appunto Non spawnano Nel bioma del fiume Ma magari vogliono Un oceano O addirittura un deep ocean Ehm Quindi non sarebbe male Allontanarsi un attimo Se non sbaglio C'erano gli Sharpedo Che erano abbastanza forti Potrei provare a prendere Uno di quelli, sì E magari se mi armavo Un pochettino di Subball Facevo prima Però Non lo so Ogni volta passare dal dottore Mi scoccia tantissimo Perché ho paura Che voglia chiedermi quel favore Che non ho ancora capito cos'è E forse ci sta pensando Cioè, non so se ha qualcosa in mente Oppure no Ma se posso Diciamo che evito di andarci Ecco Anche se prima o poi Ci dovrò ritornare Perché Ha assunto un nuovo ragazzo E a quanto pare Devo comprare le cose da lui E quindi se mi serve qualcosa Non ho scelta Ok Sono arrivato all'oceano Ehm Qua c'è l'oceano Subito dopo ci dovrebbe essere il deep Il fatto è che io Sott'acqua ovviamente Non vedo niente E quindi Potrebbe essere un problema Tra l'altro Non ho nemmeno un Pokémon d'acqua Per andare nell'acqua Quindi Cioè È difficile Sì È tipo un controsenso Ma è difficile Beh in teoria Se rimango vicino alla riva Qualche Pokémon si dovrebbe avvicinare Che magari viene da un pochettino Più lontano E Sì Se mi va bene Riesco anche a vedere qualcosa E a catturarlo Però qua vedo della luce C'è C'è qualcosa? No È il sole Che illumina questo punto In modo strano Ma wow Veramente Che strana cosa Poi detto sinceramente Non mi stupirei Di trovare qualcosa di segreto In un'isola di contrabbandieri Ecco tipo una caverna O Un ripostiglio nascosto Con dentro le cose Veramente Quindi magari Un giretto me lo faccio Poi magari non trovo niente Ecco chissà Ma di certo Tentare non muovi Già che devo farmi un giro Ok allora Io Da tipo 20 anni Che sto girando E non ho trovato nulla Assolutamente Però qua C'è un altro Blastoise Anzi un altro Mega Blastoise E Effettivamente No no Cosa mi sa che è aggressivo Perché mi cura addosso Siccome ho curato i Pokémon Io non lo so Però ci vorrei anche riprovare Livello 56 Sono andato 10 livelli in più Allora Divinazione È una mossa potente Non so se La mossa di tipo Psico Ha effetto contro un Pokémon Di tipo Acqua Però intanto la faccio E anche se non farà danno Lo farà dopo Comunque Ok Ora Il danno arriverà tra Due turni Se non ho capito male Intanto lì potrei fare Un intro forza E non funziona nemmeno Perché lui mi va a shottare Allora Il tipo fuoco Mi distrugge brutalmente Quindi provo col Marco Che comunque Troppi livelli più basso Vabbè Gli faccio un attacco d'ala Che attenzione Attacco d'ala L'ha levato un bel po' Ma penso sia stata La mossa di quello prima Appunto Non Non lo so se Ah ma questo è rimasto Ma c'era C'era uno scritto che aveva un PS E infatti l'ha buttato fuori Ma ha zero di vita Ragazzi è rimasto su attendi Si è buggato tutto Ops E vabbè va così Decisamente va così Che trash però Ok purtroppo Non c'è più Il Mega Blast Toys Ovviamente E di nuovo notte E Io non so cosa sia succedendo Veramente Succedono cose a caso Va bene Nuovo giorno Nuove speranze Ho già aperto un po' di ball Senza farvi vedere Però tanto qualcosa ci sta Rock Tomb Ok Sarebbe tipo Roccia Tomba Una roba simile Boh penso di si A occhio ecco Una mossa di tipo terra Comunque avete tutti quanti Di fare imparare terremoto Ah Renniculus Mi sembra lui Una roba simile Brucia tutto Uh brucia tutto Forse è buona Però proviamo un attimo Sullo starter No no Cosa ho sfidato Non volevo Cosa c'era qui C'ho tirato fuori Ah Non ci credo Era un pallino Ma come raccolto ci fosse Vabbè 60 eh Se il nemico è una bacca Viene divorata dalle fiamme Beh è semplicemente Una mossa normale Con 60 di potenza Ecco Che è tra l'altro Più potente delle altre Che ho io Questo però può scottare E questo aumenta la propria velocità Beh C'ho psicoraggio Che comunque non è male Cioè non vorrei levarla Perché è una mossa Di tipo diverso E tutto Ma io metto brucia tutto Al posto di bracere In effetti non è male Dai ci sta Mettiamola E mi ha sfidato Questo Vabbè Io lo distruggo Tanti di tipo erba Proviamo brucia tutto Proprio Ah che bella A parte che c'è un bel po' Di livelli in più Però almeno si va a distruggere La slime Volterà poi anche tenere Stavo passeggiando Da questa parte qui Cercando ovviamente Nell'acqua le cose E What? C'è un qualcosa di cobblestone È una stortura questa Non so cosa sia Forse è una caverna Un'entrata Qua c'è qualcosa Che è stato tappato Io non mi sono mai fatto Un piccone Quindi penso sia il caso Di cominciare Non so se dentro C'è qualcosa oppure no L'ho appena trovato E sinceramente sono anche Molto curioso Infatti Ho appena preso il legno Per la prima volta Beh scavare le radici Non è che sia al massimo Ok Già così Dovrebbe andar bene Mi faccio la mia prima crafting No Questo non è nulla Cosa ho fatto? Cioè mettiamo la crafting Per terra Non so per quale motivo Ho già degli stick E mi faccio un piccone Semplicemente In legno Non mi interessa farlo In chissà che cosa E Boh Vado Subito a vedere Cosa cavolo è Ma ci sarà qualcosa sotto Ma il fatto è che È anche troppo lento scavare Ah C'è la lava Perché c'è la lava qua? Cioè veramente È semplicemente un coso Perché c'era la lava What? Vabbè Pensavo su una struttura Invece si vede È una fuoriuscita di lava Totalmente a caso Va bene Però la crafting Me la riprendo Ok Ho trovato un coso strano Penso sia tipo Un ragnetto Ora Provo a lanciargli Una ultra Vol così Totalmente a caso Però è tipo Incastrato in un blocco Vabbè Se lo salvo Magari Entra anche subito Dimmi di sì Ti prego Ok ok Per lo meno Io l'ho lanciata bene Dai dimmi che entri subito Perché ti aiuta Non ci credo Cioè io Io non so ragazzi Io c'ho C'ho una fortuna Ultimamente Che veramente Non devo parlare Catturo pokemon Alla prima ball Ora gliel'ho tirata addosso Così Lui Lui si vede Ok Vabbè Non so che dire Ma intanto Sarà di tipo acqua Questa cosa qui Oppure no Statistiche Ok Acqua E Qualcos'altro Acqua e qualcos'altro Il surskit Mosse Ok Bolla 40 di danno E riduce la velocità Attacco rapido Quei classico Profimino Che non utilizzerò mai E No Ho invertito le mosse Bolla raggio Attenzione Bolla raggio È buono Questo è veramente interessante Come pokemon Ora il fatto è questo Che va fatto livellare Finalmente Ho ottenuto Il mio pokemon D'acqua E sono stra felice Di questo Però Devo assolutamente Trovare qualche pokemon Di livello Un pochettino alto Magari anche Senza da girare Sul 30 Giusto magari Per farli fare Penso 5 o 6 livelli Non so dire Se ha qualche evoluzione Questo pokemon Qui Però comunque Si può vedere insieme Dai Tipo questo Questione qui Ok Il livello 21 Non è che sia altissimo Però con un intro forza Si va a shottare Ovviamente Easy Ci da tantissimi punti Esperienza E queste cose qui Non mi interessano Quindi le butto per terra 40 40 è perfetto Per il nostro Obiettivo proprio Però in intro forza Non so se Ok si si va bene Non tantissimo Però un po' di danno Glielo fa Prima di me sono alto Perché siamo Un livello Un po' più alto E cavolo 1200 600 Ok Un bel po' di punti Esperienza Si sono fatti Dai Ma non bastano Comunque Non bastano Ah tra l'altro Qui c'è un ricorda mosse Mi è stato detto Che ho fatto un po' Una cazzata Con un pokemon Però non mi ricordo Quale Quindi do un'occhiata veloce Perché almeno Posso ripristinare le mosse Che appunto ho levato per sbaglio Ecco Era ripresa Una mossa di autoguarigione Il pokemon ripristina I suoi ps Fino a metà dei suoi ps massimi Ripresa interessante Alla posta di cosa la posso mettere Ok Schermo luce che non userai mai Dai Vediamo se posso fare altre mosse decenti Nuove Perché cavolo Così li posso rimescolare i pokemon Come cavolo mi pare E diventano potentissimi Tipo Stur di pugno Eh no Dovrei levare qualcosa Tipo ad evinazione O intro forza E intro forza non la levo di certo Divinazione No No Poi qua c'ha rimonta Riduce i ps del nemico A una quantità pari A chi Ah ma con quindi No quindi se questo pokemon qui Ha un ps Io faccio rimonta E il nemico ha un ps Bellissimo Ok quindi con questo pokemon qui Penso di aver finito Sinceramente No E speri ti ricorda mosse Ah cavolo Mi dispiace tantissimo Ah no Colo laggiù Ok Mi sei ancora utile Proviamo con lo starter No Soltanto mosse schifose Niente Con quello nuovo invece Che abbiamo catturato No Schifosa Schifosa Marco e PG8 Invece non li guardo nemmeno Non mi interessa A questo punto Continuo la mia ricerca Di un pokemon di livello alto Per appunto aiutare il resto della squadra Che è un allenatore Penso sia la cosa giusta Facciamo un bello scontro dai Io gli spammo intro forza di cattiveria tanto E qualcuno qua livella Non so chi penso il mondo a dire il vero Non nemmeno guardo Che poi in effetti intro forza È l'unica mossa decente Che posso fare con questo qua Perché rimonta Ora come ora Non avrebbe senso Anzi se faccio rimonta Magari voglio testare questa cosa Ma che lo vado a curare per caso Ah no Proprio Proprio fallisce Si vede se ha più vita Non lo so Comunque vabbè dai Facciamo intro forza E andiamola a shottare La cosa bella del mio pokemon È che ora tipo A metà vita È avvelenato Però in teoria Se faccio ripresa Che bello Cioè io ora con ripresa Posso veramente Cioè ragazzi Io sono emozionato per questa cosa Perché io come tutti voi ricordate Avevo il mio bellissimo Che purtroppo mi ha abbandonato E come tutti sapranno Ho a ripresa Io lo amavo Perché era un pokemon Che avevo portato a livello 100 E aveva delle mosse potentissime Praticamente shottava qualsiasi pokemon E grazie appunto Alla mossa ripresa Non c'era modo di buttarlo giù Perché ogni volta che perdeva vita La recuperava tipo E io abusavo molto di quella mossa Non lo nego Però era una cosa tipo bellissima E anche io ora tipo Sono con poca vita Clicco ripresa E mi curo È bellissimo Mi curo di nuovo Lui ora prende il danno Oh questo turno prende il danno Infatti ragazzi è sceso tantissimo Li potrei rifare un intro forza Anzi alla prossima Intrashimore Vediamo Ok Distrutto E si fanno ovviamente altri livelli Ma tantissimi tipo Hanno livellato tutti in questo momento Tutti Ho visto anche che c'era un altro pokemon Di livello abbastanza alto Che però mi sa che è scappato Già che nella mini mappa Nel mio radar Non lo vedo Peccato Ho visto che era un 49 Vabbè niente Comunque abbiamo catturato Nuove pokemon Le abbiamo portato A livello 20 Voglio soltanto informarmi un attimo Se ha delle evoluzioni E poi dai Si vede che fare Ok Sono andato a vedere velocemente Ma c'è un problema enorme Praticamente questo pokemon qui Quando si evolve Diventa la farfalla Che si chiama Maskuin Se non sbaglio Una roba simile Quella che spesso nella mia isola Si vede bianca volare E il problema è che quella lì Non è di tipo acqua Infatti cioè vola È di tipo volante Con le ottero Che non c'entra niente Con questo cosettino Quecchio io Che appunto è di tipo acqua E a me serve un pokemon Tipo acqua Quindi penso che l'unica soluzione Sia non farlo evolvere E lo vorrei tenere squadra Cioè so che pericatturare Qualche altro pokemon E farlo evolvere E farlo diventare potentissimo Però sinceramente Questo mi piace Quindi penso che ci accompagnerà Per un bel po' di tempo Che per l'altro Non ho ancora tirato fuori Dalla ball Quindi vorrei guardarlo Ah che figo È bellissimo Io Io no Assolutamente non lo voglio cambiare Questo qui Mi rimarrà in squadra E lo porterò per un bel po' di tempo Cioè fa anche il bagnetto È tipo tenerissimo Però è notte E ragazzi Io in questi giorni Ho passato molte notti A scrocco Nelle case del villaggio Forse è arrivato il momento Di andare da Pyrex E chiedergli appunto Dove possa costruire una casa Svoluto perché Ho l'inventario pieno di oggetti Che ho trovato nell'isola E devo depositarli a qualche parte Cioè non posso continuare A andare a giro così Se dovessi trovare una ball per terra Non potrei raccattarne il contenuto Quindi sì Decisamente mi serve una casa E non sono nel villaggio Questa è direttamente la casa Del tipo con i capelli verdi Quindi Boh Se mi va bene Lo trovo qua dentro Mi sa proprio che devo andare A chiedere qualcosa Pica Pica A chiedere qualcosa A chiedere qualcosa